Rifarei tutto quello che ho fatto. E invece qualcosa che cambieresti nel passato? Proprio quel rigore. Però diciamo il passato non si può cancellare, non si può cambiare. Fa parte di una crescita, quindi anche gli errori aiutano a crescere. L'unico rimpianto vero che ho è non aver partecipato a quegli europei nel 2012 dove ero stato indagato per calcio scommesso e poi assolto dopo un po' di mesi. Quello è un rimpianto perché poi l'Italia lì aveva fatto un grande europeo e era arrivata in finale. Da quel momento anche la mia avventura con la nazionale è un po' cambiata. Sono contento per come ho vissuto la mia carriera, come è stata intrapresa e come la sto terminando.